Sindaco, domani è il primo giorno di maturità. La maturità è uno di quegli appuntamenti che poi nella vita ti porterai sempre con te, nei ricordi. Volevo ringraziare questa generazione di ragazzi perché sono tra l'altro tra quelli che hanno maggiormente pagato il costo della pandemia perché abbiamo di fatto interrotto il loro percorso didattico, la loro socializzazione con i compagni ma domani si troveranno ad affrontare la maturità, ritorneranno in presenza quindi nel ringraziarli per il supporto importantissimo che hanno dato alle istituzioni nella gestione pandemica auguro a loro un grande in bocca al lupo per questo esame di maturità e auguro a loro un grande in bocca al lupo perché l'esame di domani sarà una rampa di lancio per il loro futuro che può essere professionale o di ulteriori studi però sarà sicuramente un futuro importante. Quindi forza ragazzi in bocca al lupo studiate le ultime ore e poi dimostrate quanto valete perché già lo avete fatto durante la pandemia e domani lo dovete fare davanti alla commissione d'esame quindi in bocca al lupo il sindaco è come voi.